Salve, il solitore ci permette di creare un account sul sito mmsrl.it Siamo nell'home page e andiamo in alto a destra sul bottone accedi Poi passiamo il login che è dedicato a chi ha già un account Approvi l'informativo sulla privacy E inseriamo i nostri dati Nome, cognome, indirizzo, città, provincia, codice di riempimento postale E nome dell'azienda, partita IVA Chiaramente chi non ha una ragione sociale può inserire come Può creare un account come privato e inserire il codice fiscale di persona fisica Un telefono La mail valida La password è segreta Questa è anche risettata in avanti Contraggiamo L'account è stato già creato Grazie a tutti